Benieri, che naturalmente è felicissimo di essere qua, è una scelta che forse è la migliore in questo momento. Sì, è la migliore, mi sembra che abbia il buon senso necessario di vitalizzare la squadra sia nei singoli che nell'insieme. C'è il dispiacere nei confronti di Gasperini, che è sempre stato sostenuto malgrado di qualche cosa che abbia letto molto strumentale, questa mattina su qualche giornale, solitamente nemico, no, Gasperini abbiamo fatto di tutto perché andasse bene, l'ha capito, è stato sfortunato nel suo tentativo, sono abbastanza soddisfatti di questa scelta adesso perché credo che le qualità sono necessarie per farlo. Cosa le ha detto stamattina? L'ha incontrato? Ci hanno detto che le cose fra noi due necessarie perché ricordavano bene. L'ha visto carico? Sì, questo senza dubbio. Quindi costruivamo un allenatore un po' così forte di carisma anche per la squadra, secondo lei? Sì, ma soprattutto di grande esperienza, in questo momento serve quello. Bisogna rimetterla solo un po' a posto, con un po' di logica, come ha sempre giocato negli ultimi anni, la sensazione almeno. Sì, la sensazione è quella, ma ci abbiamo un punto, quindi bisogna cominciare. Però il campionato lo aspetta, Presidente? Sì, senza dubbio. Sì, sembrava un disastro sul campionato, poi ha visto che anche le altre hanno rallentato, questa è una cosa positiva. Sì, sì, noi dobbiamo cominciare ad andare su lo stesso, insomma, grazie.